bellinda e il mostro c'era una volta un mercante di livorno padre di tre figlie a nome assunta carolina e bellinda era ricco e le tre figlie le aveva avvezzate che non mancasse loro niente erano belle tutte e tre ma la più piccola era d'una tale bellezza che le avevano dato quel nome di bellinda e non solo era bella ma buona e modesta e assennata quanto le sorelle erano superbe caparvie e dispettose e per di più sempre cariche d'invidia quando furono più grandi andavano i mercanti più ricchi della città a chiederle per espose ma assunta e carolina tutte sprezzanti li mandavano via dicendo noi un mercante non lo sposeremo mai bellinda invece rispondeva con buone maniere sposare io non posso perché sono ancora troppo ragazza quando sarò più grande se ne potrà riparlare ma dice il proverbio finché ci sono denti in bocca non si sa quel che ci tocca ecco che al padre successe di perdere un bastimento con tutte le sue mercanzie e in poco tempo andò in rovina di tante ricchezze che aveva non gli rimase che una casetta in campagna e se volle tirare a campare alla meglio gli toccò ad andarci sia ritirare con tutta la famiglia e a lavorare la terra come un contadino figuratevi le boccacce che fecero le due figlie maggiori quando intesero che dovevano andare a far quella vita no padre mio dissero alla vigna noi non ci veniamo restiamo qui in città grazie a dio abbiamo dei gran signori che vogliono prenderci per spose ma sì vagli a rincorrere i signori quando sentirono che erano rimasti al verde se la squagliarono tutti quanti anzi andavano dicendo gli sta bene così impareranno come si sta al mondo abbasseranno un po la cresta però quanto godevano a vedere assunta e carolina in miseria tanto erano spiacenti per quella povera bellinda che non aveva mai arricciato il naso per nessuno anzi due o tre giovanotti andarono a chiederla in sposa bella com'era e senza un soldo ma lei non voleva saperne perché il suo pensiero era ad aiutare il padre e ora non poteva abbandonarlo infatti alla vigna era lei ad alzarsi di buon'ora a fare le cose di casa a preparare il pranzo alle sorelle e al padre le sorelle invece salzavano alle dieci e non muovevano un dito anzi ce le avevano sempre con lei quella villana come la chiamavano che s'era subito abituata a quella vita da cani un giorno al padre arriva una lettera che diceva che a livorno era arrivato il suo bastimento che si credeva perso con una parte del carico che s'era salvato le sorelle più grandi già pensando che tra poco sarebbero tornate in città e sarebbe finita la miseria quasi diventarono pazze dalla gioia il mercante disse io ora parto per livorno per vedere di recuperare quello che mi aspetta cosa volete che vi porti in regalo dice l'assunta io voglio un bel vestito di seta color d'aria e carolina a me invece portatemene uno color di pesca bellinda invece stava zitta e non chiedeva niente il padre dovette domandarle ancora e lei disse non è il momento di fare tante spese portatemi una rosa e sarò contenta le sorelle la presero in giro ma lei non se ne curò il padre andò a livorno ma quando stava per mettere le mani sopra alla sua mercanzia saltarono fuori altri mercanti a dimostrare che lui era indebitato con loro e quindi quella roba non gli apparteneva dopo molte discussioni il povero vecchio restò con un pugno di mosche ma non voleva derudere le sue figlie e con quei quattro pochi quattrini che gli rimanevano comprò il vestito color aria per assunta e il vestito color pesca per carolina poi non gli era rimasto neanche un soldo e pensò che tanto la rosa per bellinda era così poca cosa che comprarlo o no non cambiava nulla così s'avviò verso la sua vigna cammina cammina venne notte s'addentrò in un bosco e perse la strada nevicava tirava vento una cosa da morire il mercante si ricoverò sotto un albero aspettandosi da un momento all'altro d'essere sbranato dai lupi che già sentiva ululare da ogni parte e mentre stava così voltando gli occhi scorse un lume lontano si avvicinò e vide un bel palazzo illuminato il mercante entrò non c'era anima viva gira di qua gira di là nessuno c'era un camino acceso zuppo fradicio com'era il mercante ci si scaldò e pensava adesso qualche d'uno si farà avanti ma aspetta aspetta non si faceva viva un'anima il mercante vide una tavola apparecchiata con ogni sorta di grazia di dio e si mise a mangiare poi prese il lume passò in un'altra camera dove era un bel letto ben rifatto si spogliò e andò a dormire al mattino svegliando si restò di stucco sulla seggiola vicino al letto c'era un vestito nuovo nuovo si vestì scesse le scale e andò in giardino un bellissimo rosaio raffiorito in mezzo ad un'aiuola il mercante si ricordò del desiderio della sua figlia bellinda e pensò che ora poteva soddisfare anche quello scelse la rosa che gli pareva più bella e la strappò in quel momento dietro alla pianta si sentì un ruggito e un mostro comparve tra le rose così brutto che faceva incenerire solo a guardarlo esclamò come ti permetti dopo che t'ho alloggiato nutrito e vestito di rubarmi le rose la pagherai con la vita il povero mercante si buttò in ginocchio e gli disse che quel fiore era per la sua figlia bellinda che non desiderava altro che una rosa in dono quando il mostro ebbe sentito la storia si amman sì e gli disse se hai una figlia così portamela che io la voglio tenere con me e starà come una regina ma se non me la mandi perseguiterò te e la tua famiglia dovunque siate al poveretto più morto che vivo non parve vero di dirgli di sì pur di andarsene ma il mostro lo fece ancora salire nel palazzo e scegliere tutte le gioie gli ori e i broccati che gli piacevano e ne riempì una cassa che avrebbe pensato lui a mandargliela a casa tornato che fu il mercante alla sua vigna le figlie gli corsano incontro le prime due con molte smorfie chiedendogli i regali e bellinda tutta contenta e premurosa lui diede uno dei vestiti ad assunta l'altro a carolina poi guardò bellinda poi guardò bellinda e scoppiò in pianto forgendole la rosa e raccontò perfilo e persegno la sua disgrazia le sorelle grandi cominciarono subito a dire ecco lo dicevamo noi con le sue idee strane la rosa la rosa ora dovremo tutti pagarne le conseguenze ma bellinda senza scomporsi disse al padre il mostro ha detto che se vado da lui non ci fa nulla allora io ci andrò perché è meglio che mi sacrifichi io piuttosto di patire tutti il padre le disse che mai e poi mai ve l'avrebbe condotta e anche le sorelle ma lo facevano apposta le dicevano che era matta ma bellinda non sentiva più nulla puntò i piedi e volle partire la mattina dopo dunque padre e figlia all'alba si misero in strada ma prima alzandosi per partire il padre aveva trovato ai piedi al letto la cassa con tutte le ricchezze che aveva scelto al palazzo del mostro senza dire niente alle due figlie grandi egli la nascose sotto il letto al palazzo del mostro arrivarono di sera e lo trovarono tutto illuminato salirono le scale al primo piano c'era una tavola imbandita per due zeppa di grazia di dio fame non ne avevano molta pure si sedettero a biluccar qualcosa finito che ebbero di mangiare si sentì un gran ruggito e apparve il mostro belinda restò senza parola brutto fino a quel punto non se l'era proprio immaginato ma poi piano piano si fece coraggio e quando il mostro le chiese se era venuta di sua spontanea volontà franca franca gli rispose di sì il mostro parve tutto contento si rivolse al padre gli diede una valigia piena di monete d'oro e gli disse di lasciar subito il palazzo e di non mettervi più piede avrebbe pensato lui a tutto quel che poteva servire alla famiglia il povero padre diede l'ultimo bacio alla figlia come avesse avuto cento spine in cuore e se ne tornò a casa piangendo da commuovere anche i sassi bellinda rimasta sola il mostro le aveva dato la buona notte e se ne era subito andato si spogliò e si mise a letto e dormì tranquilla per la contentezza di aver fatto una buona azione e salvato suo padre da chissà quali sciagure la mattina salzò serena e fiduciosa e volle visitare il palazzo sulla porta del suo appartamento c'era scritto appartamento di bellinda sullo sportello del guardaroba c'era scritto guardaroba di bellinda in ognuno dei begli abiti c'era ricamato vestito di bellinda e dappertutto c'erano cartelli che dicevano la regina qui siete voi quello che volete avrete la sera quando bellinda si sedette a cena si sentì il solito ruggito e comparve il mostro permettete le disse che vi faccio compagnia mentre cenate bellinda garbata gli rispose siete voi il padrone ma lui protestò no qui padrone siete solo voi tutto il palazzo e quel che ci sta dentro è roba vostra stette un po zitto come sovrapensiero poi chiese è vero che sono così brutto e bellinda brutto siete brutto ma il cuore buono che avete vi fa quasi bello e allora lui subito bellinda mi vorresti sposare lei tremò da capo a piedi e non seppe cosa rispondere pensava ora se gli dico di no chissà come la prende poi si fece coraggio e rispose se ho da dirvi la verità di sposarvi non me la sento proprio il mostro senza far parola le diede la buona notte se ne andò via sospirando così avvenne che bellinda restò tre mesi in quel palazzo e tutte le sere il mostro veniva a chiederle la stessa cosa se lo voleva sposare e poi se ne andava via sospirando bellinda ci aveva tanto preso l'abitudine che se una sera non l'avesse visto se l'avrebbe avuta a male bellinda passeggiava tutti i giorni nel giardino e il mostro le spiegava le virtù delle piante c'era un albero frunzuto che era un albero del pianto e del riso quando le foglie dritte in su le disse il mostro in casa tua si ride quando le foglie pendenti in giù in casa tua si piange un giorno bellinda vide che l'albero del piante del riso aveva tutte le fronde dritte con la punta in su domandò al mostro perché sei così ringalluzzito e il mostro sta andando a sposa tua sorella assunta non potrei andare ad assistere alle nozze chiese bellinda va pure disse il mostro ma che entro otto giorni tu sia ritornata se no mi troveresti bello e morto e questo è un anello che ti do quando la pietra si intorbida vuol dire che sto male e devi correre subito da me intanto prendi pure nel palazzo quel che più ti garba da portare il regalo di nozze e metti tutto in un baule stasera ai piedi al letto bellinda ringraziò prese un baule lo riempì di vestiti di seta biancheria fine gioie monete d'oro lo mise a piedi al letto e andò a dormire e la mattina si svegliò a casa di suo padre col baule e tutto gli fecero una gran festa anche le sorelle ma quando seppero che lei era così contenta e ricca e il mostro era tanto buono ripresero ad essere rose dall'invidia perché loro conducevano una vita che pur senza mancare di nulla per via dei regali del mostro tuttavia non poteva dirsi ricca e l'assunta sposava un semplice legnaiuolo dispettose come erano riuscirono a portare via bellinda l'anello con la scusa di tenerlo un po al dito e glielo nascosero la bellinda cominciò a disperarsi perché non poteva vedere la pietra dell'anello e arrivato il settimo giorno tanto pianse e pregò che il babbo ordinò alle sorelle di renderle subito l'anello appena lebbe in mano lei vide che la pietra non era più limpida come prima e allora volle subito partire e tornare al palazzo allora di desinare il mostro non comparve e bellinda era preoccupata e lo cercava e chiamava dappertutto lo vide solo a cena comparire con un'aria un po patita disse sai che sono stato male e se tardavi ancora ma avresti trovato morto non mi vuoi più niente bene sì che ve ne voglio lei rispose e mi sposeresti a questo no esclamò bellinda passarono altri due mesi e si ripete il fatto dell'albero del riso del pianto con le foglie alzate perché si sposava la sorella carolina anche stavolta bellinda andò con l'anello e un baule di roba le sorelle l'accolsero con un risolino falso e assunta era diventata ancora più cattiva perché il marito legnaiuolo la bastonava tutti i giorni bellinda raccontò alle sorelle cosa aveva rischiato per essersi trattenuta troppo la prima volta e disse che stavolta non poteva fermarsi ma ancora le sorelle le trafugarono l'anello e quando glielo ridiedero la pietra era tutta intorbidita ritornò piena di paura e il mostro non si vide né a pranzo né a cena venne fuori la mattina dopo con l'aria languente e disse sono stato lì per morire se tardi un'altra volta sarà la mia fine altri mesi passarono un giorno le foglie dell'albero del pianto e del riso pendevano tutta in giù come fossero secche che c'è a casa mia gridò bellinda c'è tuo padre che sta per morire disse il mostro fatemelo rivedere disse bellinda vi prometto che stavolta tornerò puntuale il povero mercante rivedere la figlia minore al suo cappizzale dalla contentezza cominciò a star meglio bellinda l'assistette giorno e notte ma una volta nel lavarsi le mani posò l'anello e sul tavolino e non lo trovò più disperata lo cercò dappertutto supplicò le sorelle e quando lo ritrovò la pietra era nera tranne un angolino tornò al palazzo ed era spento e buio come fosse disabitato da cent'anni prese a chiamare il mostro strillando e piangendo ma nessuno rispondeva lo cercò dappertutto e correva disperata per il giardino quando lo vide steso sotto il rosaio che rantolava tra le spine si inginocchiò accanto a lui sentì che ancora il cuore gli batteva ma poco si buttò sopra di lui a baciarlo e a piangere e diceva mostro mostro se tu muori non c'è più bene per me se tu vivessi se tu vivessi ancora ti sposerai subito per farti felice non aveva finito di dirlo che tutto a un tratto si vide il palazzo tutto illuminato e da ogni finestra uscivano canti e suoni bellinda volse il capo sballordita e quando tornò a guardare nel rosaio il mostro era sparito e invece sua c'era un bel cavaliere che salzò di tra le rose fece una riverenza e disse grazie bellinda mia mai liberato e bellinda restata di stucco ma io voglio il mostro disse il cavaliere si gettò in ginocchio ai suoi piedi e le disse eccolo il mostro per un incantesimo dovevo restare mostro finché una bella giovane non avesse promesso di sposarmi brutto come ero bellinda diede la mano al giovane che era un re e insieme andarono verso il palazzo sulla porta c'era il padre di bellinda che l'abbracciò e le due sorelle le sorelle dall'astio che avevano restarono una da una parte una dall'altra della porta e diventarono due statue il re sposò bellinda e la fece regina e così felici vissero e regnarono